. I cervelloni a 5 stelle, ormai, altro che francescani come amano dipingersi, hanno maturato una certa dimestichezza con gli affari privati. Che è un cervellone, però, che si è distinto più degli altri, riuscendo addirittura a far meglio del più famoso gruppo casaleggio. . Il business sembra aver letteralmente arriso a David Borrelli, peso massimo del movimento. Euro deputato dal maggio del 2014, con Davide Casaleggio e Massimo Bugani è uno dei triumvir in possesso delle chiavi di Rousseau, il sistema operativo che gestisce i 5 stelle. . Lo stesso Borrelli è socio dell'Associazione Rousseau, che sta dietro all'omonima piattaforma. . Ed è dal pallino per l'informatica che bisogna partire per inquadrare i suoi successi privati, consolidatisi soprattutto da quando ha spiccato il volo nel mondo pentastellato. . Da anni Borrelli è l'anima della Trevi Group, società informatica di Treviso costituita nel 2010 che si occupa di software e protezione delle reti aziendali. . Come emerge dai dati delle Camere di Commercio oggi Borrelli ne è vicepresidente e azionista al 25 identica quota accreditata da altri tre soci. . A farsi notare, però, è il fatturato della Trevi Group, in costante crescita. . . Dall'ultimissimo bilancio depositato, chiuso al 31 dicembre 2016, i ricavi risultano essersi attestati a 1 milione e 48 mila euro, in crescita rispetto al milione tondo del 2015 e ai 988 mila euro del 2014. . Ma l'escalazione è ancora più ragguardevole se si considera che nel 2011, primo vero anno di attività, lo stesso fatturato aveva fatto segnare una performance di 393 mila euro. . . Questo significa, per i feticisti dei numeri, che i ricavi della società di Borrelli negli ultimi cinque anni sono schizzati del 167. . Senza contare che gli ultimi tre esercizi hanno sempre chiuso inutile, 18 mila 500 euro nel 2016. . I risultati economici della creatura di Borrelli sono addirittura migliori di quelli della Casaleggio Associati, che ha chiuso il 2016 con un fatturato di 974 mila euro e una perdita di 48 mila. . . Sarà anche per questi successi che Borrelli avrà deciso in tempi recenti di dar vita a un'altra sua creatura, sempre con sede a Treviso, che si chiama Ubuare S.R.L. . Iscritta in Camera di Commercio nell'aprile del 2015, l'eurodeputato Grilli non è azionista al 70 e consigliere di amministrazione. . La Ubuare si occupa di sviluppo software e applicazioni. . E ha chiuso il suo primo vero anno di attività, il 2016, con un fatturato di 77 mila euro inutile di 8 mila. . . Ma non finisce certo qui, perché Borrelli poco tempo prima aveva messo in campo un'altra società, la Clut TLC S.R.L., di cui risulta socio unico e consigliere di amministrazione. . . Iscritta a Treviso nel marzo 2014, con servizi di telecomunicazione come oggetto sociale, la Clut TLC nel 2016 ha messo a segno ricavi per 122 mila euro e anche qui un'utile di 8 mila. . . . Insomma, se si vuol guardare all'andamento degli affari privati, Borrelli è un po' diventato il nuovo casaleggio. .